Siamo molto contenti che il governo abbia riconosciuto che lo sport ha risposto con responsabilità in questi mesi. Tommaso Iori, presidente WISP Trentino, è soddisfatto per come l'ultimo DPCM abbia salvaguardato le attività sportive dilettantistiche e giovanili organizzate da società e associazioni che possano garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza, soddisfatto anche per l'attenzione al mondo dello sport dimostrata dalle istituzioni. Questo non significa che vada tutto bene, le conseguenze del lockdown pesano ancora sulle società per aumento dei costi e diminuzione dei ricavi. Le limitazioni imposte dei protocolli sul numero di partecipanti, sulle sanificazioni, sul distanziamento, fanno sì che il numero di partecipanti all'attività si sia notevolmente ridotto. Impossibile per ora fare stimi accurate, ma si parla di un meno 30% tra i praticanti e anche ASIS conferma una diminuzione, ancora da quantificare, nelle prenotazioni dei 120 impianti sportivi che gestisce a Trento. Resta poi la questione degli sport di contatto svolti a livello amatoriale, inteso come auto-organizzato, vietati per i prossimi 30 giorni perché non possono garantire l'applicazione dei protocolli, priori una scelta inevitabile. È stato importante appunto riconoscere che nello sport organizzato la sicurezza è garantita. Lì dove questa sicurezza non è garantita è giusto fare un giro di vite, in attesa appunto di tempi migliori.